No. Allora, partirei subito. Oggi c'è anche, oltre agli assessori, c'è anche la dottoressa Russo che oggi presenterà tutto quello che è la tabella e i dati che avevamo promesso sui deceduti e sulle mortalità. Diciamo che è stato fatto un lavoro copioso, quindi ringrazio fin d'ora la dottoressa Russo perché avete, ed è un modo i cittadini, anche di avere una lettura non solo delle percentuali di mortalità, i discostamenti rispetto al mese dell'anno precedente, ma anche rispetto alle patologie. C'è il famoso morto con Covid, da Covid avete anche uno spaccato senza nessuna presunzione, perché poi in questo Paese è una strategia come si parla. Semplicemente dal punto di vista statistico, dopo ognuno i dati li vede come vuole. Allora, il totale dei tamponi molecolari sono 3.023.689. Ieri abbiamo fatto 16.810 tamponi molecolari. Il totale dei tamponi rapidi è 1.384.407. I tamponi rapidi ieri, nelle ultime 24 ore, scusate, sono stati 35.831, che sommati 16.810, fanno 52.641 tamponi. 52.641 tamponi, che trasformato, e questo è un dato fra l'altro che riprende il solito ragionamento che vi dico sul numero di positivi, ci dà che l'incidenza dei positivi sui tamponi è del 6,30%. Vedete, la percentuale continua a restare bassa. Stiamo parlando di tamponi su popolazione esposta al contagio. In che senso? Prego. Ah, farla anche adesso così la risolviamo subito. Chiedo scusa, grazie Presidente. Prego. Siccome è in corso una manifestazione su cui magari poi torneremo, comunque ci sono alcuni attivisti del Comitato a difesa della sanità pubblica, i quali chiedono chiarezza sul dato che viene messo a numeratore nel calcolo dell'incidenza dei positivi sui controlli effettuati, e cioè a denominatore la regione sta calcolando insieme, come da ripetute richieste alle autorità centrali, i test molecolari e i test antigenici. A numeratore il dato relativo ai positivi comprende i positivi trovati con entrambe le metodiche, perché sappiamo che ci sono test antigenici positivi che vengono confermati in molecolare. Poi c'è una quota di molecolari puri, diciamo, nel senso che per patologie particolari, ricoveri, viene fatto direttamente il molecolare. Ecco, la domanda è capire il dato dei positivi se arriva da entrambe le metodiche, cioè dai molecolari e dai rapidi, se ci confermate che non vengono contati doppi, cioè che nel caso di una conferma viene contato un caso, cioè una testa. Lo so, però siccome la contestazione continua, io vorrei che venisse, se possibile, la parola fine a questo. Grazie. Allora, il numero di soggetti positivi, i nuovi positivi, sono i soggetti che vengono trovati positivi con test rapido confermato con test molecolare, oppure solo con il molecolare, oppure solo con il rapido. Pochissimi casi. Perché secondo l'indicazione ad oggi fornita dal Ministero della Salute, tutti i test rapidi devono poi essere confermati col test molecolare. Quindi il soggetto positivo viene contato solo una volta. Noi consideriamo quindi l'incidenza, così come viene considerata insomma in epidemiologia, come il numero di soggetti positivi rispetto alla popolazione, non rispetto ai test. Perché il discorso di considerare i positivi rispetto ai test è un altro tipo di valutazione, che è quella di andare a considerare quanti soggetti positivi non riusciamo a individuare con una strategia di sanità pubblica, che è quella di diffondere il più possibile i test per trovarli. Ma è un altro concetto, perché l'incidenza si calcola con un altro criterio, che è quello dei positivi rispetto alla popolazione. dei 100.000 abitanti. È quello l'indicatore che mette in evidenza l'incidenza e quindi il numero di nuovi casi. Poi è vero che, e quindi è immediatamente conseguente a questo che è un tasso, perché l'incidenza è un tasso, si chiama così in epidemiologia, che è quella di considerare la proporzione di tamponi che ci permettono di individuare i positivi. Noi abbiamo una penalizzazione in questo momento, perché in tutte le telegiornali, le notizie dei media, ci viene considerato una certa incidenza, quindi un certo numero di positivi come dato assoluto, che sono 3.000, 4.000, 2.000, eccetera, sui tamponi fatti che considera a livello nazionale al momento soltanto i tamponi molecolari. Per cui noi abbiamo una proporzione di positivi sui tamponi molecolari che è molto alta, che ci penalizza perché non è vero, perché quantomeno al denominatore noi dovremmo considerare tutti i tamponi fatti, non al numeratore dove andiamo a conferma con i molecolari, ma al denominatore e quindi il numero di tamponi fatti è molto più alto perché lì ci devi mettere anche i negativi, non solo i positivi, ci devi mettere tutti i tamponi che tu fai e che risultano negativi. Suffigente? Grazie. Beh, abbiamo avuto anche la fortuna di averla dottoressa Russo, che è la massima esperta di questo tema. Purtroppo sapete qual è il tema, ma io capisco anche i cittadini che si pongono le questioni, dopo le questioni le puoi porre in maniera cortese, civile, o le puoi porre anche in maniera estrema, poi uno le fa come vuole, ma questi sono temi per i quali sono persone che vanno a scuola, le studiano, si laureano e si specializzano su questo. Anche per il sottoscritto, avendo fatto anche statistiche dell'università, non è facile, perché poi sono degli aspetti epidemiologici che vanno oltre la matematica poi a un certo punto. Quindi a volte quella che sembra la soluzione più rapida non è proprio la soluzione più rapida nel commento. Il totale di positivi sono 196.790, ovviamente sono lievitati di 3.320, che sono i positivi delle ultime 24 ore. Nell'ultime 24 ore, prima ho perso il filo, sono 3.320, come vi ho detto, 6,30% su 52.641 tamponi. Totale dei positivi. Sì, peraltro c'è anche da dire una cosa, che se noi guardassimo semplicemente, lasciassimo perdere i 3.200, i 3.320, guardassimo il contingente dei molecolari, comunque da sé, se uno ad esempio in maniera, come si può dire, molto grossolana, dicesse dammi i molecolari di oggi, tu vedi che la stragrande maggioranza sono positivi. Se a uno non gli vai a spiegare che sono la conferma dei rapidi, pensa di aver scoperto il vaso di Pandora, capite che è tutto così. Noi rispondiamo tutti i giorni a domande del genere. Positivi di oggi, 92.690. Ciò vuol dire che in questo momento, anche se qualcuno dice che queste conferenze stampa non servono a niente e siamo tutti messi d'accordo, ecco, in questo momento il Veneto è 92.690. Positivi. Penso che i Veneti siano gli unici a essere così informati costantemente di quello che accade. Totale ricoverati per Covid. Sono 3.324. Abbiamo avuto 57 ricoverati in più. Il totale è 3.324. Vi ricordo che la punta più alta, il 31 marzo, avevamo 2.068. E se guardiamo i dati, vi faccio notare le terapie intensive che da giorni che girano lì intorno e non si spostano. Le terapie intensive continuano ad essere invariate. Speriamo che questa sia una tendenza. Peraltro un dato rispetto alle 356 di fine marzo, primi di aprile, questo 3.73, rispetto ai ricoverati che sono più di 1.000 in più, 1.200 in più rispetto a marzo, le terapie intensive potremmo quasi dire che sono in linea con marzo, se ci pensate. Questa è la contabilità delle ultime 24 ore. I morti c'è un dato alto, però ho anche l'obbligo di dirvi che ieri avevamo solo 25 morti. Non per dire, pensate bene perché ieri ne avevamo pochi o perché erano tanti, lo stesso, ma per dirvi che abbiamo avuto caricati i dati di ieri su oggi. Questo ve lo dico per correttezza. Dopo, se qualcuno vuole un'analisi, la stiamo facendo, perché è logico che ieri non potevamo avere solo 25 decessi. Quindi sono 165, ma vi dico, poi fate quello che volete. Però l'onestà intellettuale è di dire che qui abbiamo dati caricati tardivamente perché è logico che il dato viene fuori da qua. Fra l'altro stiamo anche facendo una verifica. Come è accaduto 4-5 giorni fa con Treviso che si è ritrovato i ricoverati che aveva il sistema andato in tilt. Dimessi 8.799. Guardate, la situazione è assolutamente pesante perché 3.300 e... ti ricordi il dato? Del totale di ricoverati 3.000... adesso ve lo dico. Scusate. 3.324, ingegnere se ricorda giusto. 3.324 è un numero importante. Cioè voi considerate che sono 7, quasi 7 ospedali grandi di provincia che ce ne vanno... e sono dedicati, orientati, tutti formatati per il paziente Covid. Io non mi stancherò mai di dirlo che questa tragedia, se la guardiamo con i numeri dell'ospedalizzazione, uno può dire, vabbè, se queste fossero ospedalizzazioni per altre patologie non contagiose, magari che hanno bisogno di reparti di medicina con cure non intensive, sarebbe crisi malaggestici. Qui stiamo parlando di 3.324 pazienti che sono pazienti complicatissimi perché chi arriva all'ospedale... anche qui vorrei ringraziare tutti quelli che lavorano nel territorio. Ci abbiamo i medici di base, abbiamo i medici delle USCA, il territorio in generale. Considerate che abbiamo... quanti ne abbiamo seguiti al domiciliare? 10.000 seguiti dalle USCA. 10.000 seguiti dalle USCA domiciliari, più tutti i pazienti di medici di base. Pensate solo che in questo momento noi abbiamo... l'ospedale rischia di essere la punta più acuta di un iceberg, ma sotto c'è l'iceberg, sotto il pelo dell'acqua che è tutto il territorio che continua con le cure domiciliari. Allora, io ieri ho fatto l'incontro con i sindaci. L'incontro ha avuto sicuramente un esito con persone responsabili e persone che comunque comprendono fino in fondo. Allora non c'è stata fondamentalmente una posizione nel dire che non è vero che c'è problema. Assolutamente no. Poi le posizioni sono variegate, ma logicamente variegate. Se dovessi trovare un minimo denominatore potrei dire che il vero tema che allineerebbe tutti, noi compresi, voi compresi, è quello dei ristori. Cioè giustamente tutti dicono, vabbè, le misure sono direttamente proporzionali alla quantità di ristori che potremmo essere sicuri di avere. Detto questo, c'è un'interlocuzione che va avanti, e ve lo devo dire, per cui noi oggi, alla volta di domani vedremo, non provvediamo ancora a scelte autonome, per un semplice motivo che è partita un'interlocuzione di tutte le regioni italiane con il Governo, rispetto a quello che sta accadendo. Lo si legge anche sui giornali che c'è un dibattito nazionale, ho avuto modo di avere confronti sia con colleghi Presidenti, a iniziare dalla Presidente della Conferenza delle Regioni, che con esponenti del Governo, rispetto a quello che sembra che comunque siano delle volontà. so che si è riunito anche il CTS nazionale ieri pomeriggio sera, oggi sentiremo anche il Professor Brusaferro, ma c'è convinzione che ci debbano essere delle misure, diciamo uniformi, anche da prendere a livello nazionale. Quindi penso che sia questione di diore nel fare, nel vedere un incontro nazionale. Del resto il tema degli assembramenti è un tema del quale abbiamo parlato, insomma coinvolge tutte le città, c'è preoccupazione perché anche le comunità che hanno avuto le misure, a differenza di noi, o meglio noi abbiamo avuto delle misure meno aggressive di quelle della zona arancione o rossa, tutte le comunità comunque rischiano di vedere le infezioni ripartire. Dall'altro c'è anche da dire che c'è un aspetto non irrilevante, perché se prima viene la sanità pubblica c'è neanche uno di natura, diciamo, competitiva, che noi sappiamo che il 10 gennaio probabilmente la Germania avrà, se non appiattito, di certo abbassato moltissimo le sue curve di contagio. Germania fa un lockdown dal 16, che è oggi non 16, domani, dal 16, io ho perso anche la tramontana, dal 16 fino al 10 di gennaio si mette 11 miliardi 200 milioni di euro di misure e dal 90% del calo del fatturato alle tutte le imprese con meno di 500 mila euro di fatturato, sotto i 500 mila euro di fatturato. E direi che, capite che se noi andassimo dei cittadini garantendo il 90% del fatturato non staremmo neanche qui a discutere se chiudere o non chiudere. Io sono convinto comunque che nel rispetto delle libertà e di tutto quello che si può dire, ma davanti a una situazione come questa, diciamo, delle misure ci vogliano. Evitiamo di far l'ordine sparso, questo è poco, ma sicuro. Quello che possiamo fare senza ristori è ben poco dal punto di vista di, come si può dire, di misure. Questo l'abbiamo discusso anche con i sindaci. Ma non è neanche questo il problema, è il problema fatto di responsabilità. Vediamo nelle prossime ore l'evoluzione che avrà, diciamo, la partita a livello nazionale, visto considerato che, sentendo sia il Governo che i colleghi, immagino che la volta di domani una decisione ci sarà. Questo ve lo dico perché ho parlato anche stamattina sia con il Ministro Speranza che con altri. Immagino anche che da quello che ci è stato anticipato ci sarà anche una riunione con i Presidenti, quindi ne discuteremo. e io non aggiungo altro, dico, faccio sempre l'appello ai cittadini che il tema grande, poi ve lo dirà anche la dottoressa Russo che è la massima esperta di epidemiologia, si occupa proprio, questa è la sua materia, che il tema del contagio lo si vede, poi vi darà un dato importante, io non voglio dire perché è giusto, è un dato che mi ha detto che è sorprendente, rispetto alle mortalità e al contagio. Cioè c'è una fascia, poi vi dirà lei tutto il resto, c'è chi si contagia e non si ammala o non muore, invece c'è chi poi prende questo contagio e muore. C'è proprio tutta un'analisi fatta, per cui sappiamo chi sono i potenziali vettori e chi sono purtroppo i coloro che hanno, come si può dire, il risvolto finale di questa catena del contagio. Beh l'analisi fra l'altro sull'immortalità è una bella analisi che ci dà già un picco di mortalità per il mese di novembre, poi la dottoressa vi darà i dati, novembre-dicembre, ed è un bel lavoro che hanno fatto appunto i suoi uffici, quindi grazie per questo lavoro. Passerei la parola a voi per le domande ragazzi. Tosatto, Pederiva, Giacomuzzo, Fois, benvenuto, Top Bonnet, ancora nulla. Prego. Allora Presidente, io ho una domanda e poi due dettagli, chiamiamoli così. Allora, la domanda riguarda questi provvedimenti di restrizioni che sono in discussione, da più parti l'opposizione le contesta un atteggiamento di inerzia e di attesa, nel senso che affermano il Presidente ha i poteri per varare delle restrizioni, nel timore dell'impopolarità attende che sia il governo a cavagli le castagne dal fuoco. Io prendo atto della sua spiegazione, lei ha detto che non dobbiamo procedere in ordine a sparso. Mi pare di aver capito, se ci sono dei provvedimenti del governo in cantiere, le regioni attendono di conoscere quali sono per allinearsi eventualmente, se ho capito bene. Beh sì, guarda, io continuo a dire come un disco rotto che noi i provvedimenti che non dovevamo neanche assumere, li abbiamo assunti, non più tardi di 20 giorni fa, chiudendo tutti i negozi da domenica. Se questo non è un atto di responsabilità e non penso che ci siano state persone felici tra i negozianti, tra i lavoratori. Come abbiamo chiuso unici, anche qui in Italia, le medie e grandi strutture di vendita, non c'era scritto nessuna legge di chiuderle. Come abbiamo definito il numero di avventori per ogni negozio, uno ogni 20 metri quadrati, sopra i 40 metri quadrati. Anche qui unica norma che è uscita da questi uffici, dagli uffici della dottoressa Russo e dalla regione, proprio dalla regione del Veneto. E se volete prendervi la briga, visto che è ancora vigente questa norma, di andare a vedere in giro per regioni italiane chi ha sta norma, vi dico già che vi fermate al Friuli Venezia Giulia. Forse c'è qualcun altro, adesso non so se qualcuno ha aggiornato. Per dire insomma, venire qua a dire che noi non ci siamo assunti responsabilità, vuol dire aver perso molti episodi della soppopera. Dall'altro c'è da dire una cosa che è innegabile, intanto non penso che il governo si polarizzi su una norma per togliere il castagno del fuoco al Veneto, perché se fosse il problema solo Veneto, credetemi, il governo si occuperebbe di altre cose, il tema è un tema nazionale. Cioè il Corriere della Sera, tanto per citarne uno, piuttosto che Repubblica o altri, hanno riportato le foto degli assembramenti, non di Treviso, ma le hanno portate di tutta Italia. Cioè questo è il tema nazionale. Per cui piuttosto che il gazzettino, insomma tutte le vostre testate hanno fatto, hanno fatto, reso conto di quello che è. Per cui il governo giustamente, secondo me, coerentemente, pone una questione che è una questione nazionale e oggettivamente rispetto alle eventuali restrizioni che penseranno di affrontare, io non ho assolutamente una posizione ostile, visto e considerato che comunque quelle restrizioni le vorremmo già assumere anche noi e se non si è fatto, diciamo, il volo dell'angelo per assumerle è per un semplice motivo. Perché vi ricordate le ultime che ho assunto? Senza nessun ristoro. Perché il giorno prima tutti le vogliono, il giorno dopo, un istante dopo, quelli che sono penalizzati giustamente si ritrovano tutto chiuso senza ristori. Siccome c'è questa possibilità, posso dire che anche il tema di un lavoro di squadra, che è stata posta non su richiesta, perché se avete osservato il dibattito è partito esattamente lunedì mattina, come è partito qui. Vedo che i colleghi comunque portano avanti, molti dei colleghi portano avanti anche loro questa istanza, vedo che i ministri, lo scrivete voi sui giornali, stanno discutendo anche il governo al suo interno, vuol dire che c'è presa di coscienza, soprattutto dopo l'opposizione della Germania, che il tema è un tema nazionale. Non è che qua qualcuno si fa togliere castagne dal fuoco. Però comunque l'opposizione, io ho il massimo rispetto per l'opposizione, però vorrei ricordare che ci sono i giorni, c'è sempre come si dice, nella vita ci sono i giorni di bel tempo, di brutto tempo, dipende sempre di non trovarsi sotto la pioggia senza l'ombrello, perché poi va a finire male. Speriamo che qualcuno ci presti l'ombrello. No, perché guardate che qui dobbiamo fare squadra, nel senso che noi, come l'abbiamo sempre fatta col governo, dopodiché ognuno fa quello che vuole, ma venire a dire a questa ragione che non si è assunta responsabilità, dove erano tutti quelli che oggi dicono c'è una responsabilità quando il mondo intero ci attaccava per la chiusura del carnevale, delle scuole? Io non ho visto tanti responsabili dire sì è giusto, anzi dicevano che sbagliavamo tutto. La prima zona rossa in Italia, Voh, chi è che l'ha firmata? Io l'ho firmata. Dieci giorni di apertura contro la regione che sbagliava tutto. Fa fortuna. Ecco, avevo due altre questioni. Una riguarda la candidatura del Veneto. Era? Era, sì. Quindi diciamo, l'Agenzia per le emergenze sanitarie, l'Agenzia internazionale per le emergenze sanitarie, lei ha scritto al Presidente Conte, candidando il Veneto. Ecco, una domanda proprio un po' specifica. In che modo, siccome pare di capire che questa Agenzia internazionale per le emergenze sanitarie avrà sede a Venezia e sarà però, come dire, animata, sarà gestita sostanzialmente dalla scuola medica dell'Università di Padova. C'è anche l'idea di un coinvolgimento del nuovo policlinico di Padova in questa operazione? Ma c'è coinvolgimento di tutto perché sarà sostanzialmente polarizzata sul Padova. Ma non lo dico perché va bene dirlo così. Basta prendere in mano il dossier. C'è una sezione del dossier. Noi, attenzione, che quando fai una candidatura, anche qui, come con le Olimpiadi, no, no, Zaia prendi in giro tutti, tutte queste minestre qua, sempre da disperati. Allora, quando presenti una candidatura, cioè noi da mesi che stiamo lavorando a un dossier, con esperti di dossier per queste candidature. Cioè non con gente che non sa neanche cos'è un dossier internazionale. E ne è venuto fuori, diciamolo fino in fondo, perché ci riempiamo sempre, ci gonfiamo il petto, no, perché c'è una volta, cos'è, c'è di Treviso, sì, vicino a Venezia, o su De Padova, vicino a Venezia, dai, così si dice, no? Abbiamo pensato, e secondo me correttamente, ci siamo anche confrontati con il Rettore, e peraltro c'è il tema di avere la ragione sociale e l'immagine di Venezia per la candidatura, voi capite che questa è una candidatura internazionale, senza nulla togliere a Padova, che è, partiamo da Galileo e andiamo in su. Ma Padova è la base? È come dare, come si può dire? C'è stata una ipotesi di candidatura, voi forse non la ricordate, qualche anno fa, delle Olimpiadi Invernali, che prevedeva la sede, come sede, Venezia. E tu dici, ma che senso ha? Però io l'ho visto con la presentazione delle nostre Olimpiadi, guardate che in giro per il mondo, Venice, è un brand, quindi noi candideremo per la comunità mondiale, Venezia, a sede dell'Agenzia. Ma è Padova, è ovvio, Venezia non ha l'università, non ha i centri di ricerca, e nasce peraltro questa candidatura tra i Padovani, con i Padovani. Io la prima volta che ne ho parlato, ho parlato con il rettore. Ma guardi che non ho alcun dubbio, un proposito. No, ma io lo so, ma lo dico a voi che ce l'hanno. Ah, ecco. No, no, il mio era proprio una sollecitazione sul punto eventuali sinergie, siccome il nuovo Policlinico di Padova... Che si farà, grazie a noi. ha, mi pare, una vocazione, anche una vocazione internazionale, una vocazione di ricerca, di altre specialità. Ecco, è ipotizzabile una sua attività sinergica rispetto a questa... Assolutamente sì. Cioè, considerate che la comunità scientifica di Padova è una comunità in totale osmosi. Quindi non c'è dubbio su tutto questo, eh. Guardate, dottor Flor, fra l'altro che io sento costantemente, tutti i giorni, sta portando avanti in maniera magistrale l'operazione dell'ospedale. Noi stiamo galloppando, considerate, con una burocrazia, perché se ci dessero la possibilità di avere una gestione commissariale, ridurremmo di un terzo i tempi. Però andiamo avanti. Ecco, ho un'ultima questione che riguarda, forse, la dottoressa. Ti spiace, se la facciamo dopo quando parla la dottoressa? Riguardava i vaccini, in verità. Volevo sentire se c'era qualche... Siccome mi pare era attesa una circolare, o sbaglio, o ricordo male, una circolare esplicativa. Non è arrivato nulla. Grazie. Dopo comunque la dottoressa interviene e... Se non ci sono novità, restiamo in fiduciosa attesa. Ma se ne arrivano, nel frattempo. L'assessore Lanzarini è serafica e quindi noi siamo tranquilli. Andremo in tempo reale. Guardate, noi siamo qui che preghiamo che arrivino i vaccini. Ma preghiamo veramente, perché se arrivano i vaccini almeno abbiamo un raggio di sole in questa tragedia. Ma secondo voi... Guardate, vi dico due dati, scusate anche lo sfogo, no? Lombardia 23.877, Veneto 4.827, Piemonte 7.136, Emilia-Romagna 6, 6, 4, 5. Secondo voi, gli amministratori si candidano per contare morti? Vi rendete conto in che periodo storico siamo? Peraltro c'è da dire, io spero che poi la dottoressa Russo ve lo dica. Ci ritroviamo con una risposta peggiorativa nelle case di riposo facendo, peraltro, misure di prevenzione che a marzo ce le sognavamo. Oltre ad essere blindate, facciamo i tamponi in quattro giorni agli operatori, facciamo i tamponi agli ospiti. Abbiamo messo a disposizione eventuali tamponi rapidi per se c'è qualche visitatore. Ci sono i dpi che a marzo non avevamo. Capite? Vi ricordate quante volte mi avete chiesto ma la Lombardia, ma l'Emilia-Romagna? Io cosa vi dicevo sempre? Guardate che è anche una questione di fortuna con questo virus. Adesso ho preso sto bacino e finché non riusciamo a metterlo in sicurezza sarà uno stilicidio tutti i giorni. Purtroppo è così. Ma cosa intende per risposta peggiorativa? Nel senso che abbiamo più mortalità nelle case di riposo di quella che avevamo. Cioè, e voi capite che a marzo noi giustificavamo il dato che era minore dicendo non c'erano i dispositivi perché mancavano all'inizio. Non c'era una campagna aggressiva di testing perché quando noi ci siamo accorti le case di riposo già ne avevano. Peraltro avevamo case di riposo ve lo ricordo che per la maggioranza se non più della maggioranza erano senza virus pulite alla fine. Adesso invece abbiamo a macchia di leopardo il virus che è entrato un po' dappertutto abbiamo più mortalità con case di riposo chiuse e blindate perché a marzo vi ricordo che si andava a trovare il nonno la nonna, la mamma e il papà non c'erano protocolli adesso chiuse protocolli, test a marzo non facevamo mica test vi ricordo che i primi test che sono entrati scusate ma vi ritengo come se vuoi compagni di viaggio in tutti questi mesi vi ricordate quali sono stati i primi test il pungidito che fuma anche attaccato e non funziona ma tra una roba che funziona così e così non so così in base alla certificazione per carità e non fa niente secondo voi uno che ha un minimo di buon cuore cosa fa? prende la soluzione che quantomeno un po' funziona non c'era niente non esisteva il tampone rapido e se era solo molecolare facciamo 2000 al giorno perché anche qui sento pontificazioni facciamo 2170 tamponi al giorno 21 marzo andate a vedere perché a sentir parlare in giro sembra che facessimo miliardi di tamponi abbiamo 30.000 ospiti e 30.000 operatori solo nelle case di riposo noi facevamo 2170 tamponi il 21 marzo quindi anche questa narrazione bene dire con i numeri com'era quindi era impossibile arrivare dappertutto nonostante questo adesso ancora la vicenda poi se vedete i dati abbiamo mortalità extra ospedaliera che è quella delle case di riposo lei si sarebbe atteso una seconda ondata così pestifera sì guarda noi lo possono dire i collaboratori che sono qui e la dottoressa Russo noi stiamo facendo riunioni da mesi considerate che tutta l'estate anche qui diciamola perché ti ringrazio per la domanda ma abbiate anche come si può dire un minimo di di comprensione ai nostri confronti cioè noi abbiamo passato l'estate ad allestire terapie intensive piani pandemici abbiamo abbiamo rinforzato tutta la rete delle 14 microbiologie vedete che comunque nonostante i grandi numeri noi viaggiamo viaggiamo sulla fase di test non in siamo i primi in Italia con i test abbiamo sperimentato tutte le nuove i nuovi test stamattina ho visto anche quello con la saliva il ciucciotto con la saliva sembra un ciuccio lo ciucci tre minuti e poi fai l'analisi siamo sempre stati buttato il cuore oltre all'ostacolo noi sapevamo comunque e lo dice il professor Palù che è il massimo esperto di virus dice le pandemie nella storia sono sempre durate un paio d'anni infatti andate a vedere quella quello il G e lui ci ha insegnato ci ha sempre detto già e sentitelo in prima era mi diceva sempre guarda arriveranno i raggi ultravioletti probabilmente ci sarà un calo diventa silente ma non è assente infatti ci ha accompagnato tutta l'estate se volete un giorno vi do i dati di ricoverati giorno per giorno e vi seguite e vedete anche l'evoluzione che ha avuto la curva durante questi mesi siamo arrivati praticamente a zero qualche unità in terapia intensiva e in ospedale e poi pian piano è ripreso vi ricordate tanto per dire per darti un riscontro comunicativo quante volte ho discusso sul fatto che non si poteva andare a votare a ottobre e diceva guardate che tornerà il virus guardate c'era chi proponeva andare a votare a ottobre fino a ottobre ci saremmo trovati in piena pandemia e dico anche per l'esperienza che ci siamo fatti con i colleghi con la dottoressa con tutti che qui non è che va a zero non finirà non si può dire fine seconda fase è una fase questa la fine della fase deve essere zero non è mai finita la fase è iniziata a febbraio e finirà quando andremo a zero perché se non va a zero vuol dire che il virus c'è sempre proseguiamo scusatemi per deriva grazie prego avrei una domanda sulle misure ma mi ha incuriosita con il ciuccio del testo salivare no vabbè è un test nuovo che hanno portato il dottor Rigoli che ormai prova tutto quello che passa per il mondo si è di test è una novità lo stiamo pensando è un'evoluzione rispetto a quello dell'università di Padova che è in molecolare salivare questo è un test rapido è una novità perché perché i bambini no è tipo un ciupa ciupa cioè fratto non ha neanche sapore io l'ho provato stamattina se volete un esempio avete presente che in alcuni locali ti danno la salvietta pre-compressa super secca e ci mettono una goccia d'acqua e si gonfia non so se vi è mai capitato di vedere accade so che le vendono anche su internet io spesso le incrocio su internet sta roba è la stessa roba c'è uno stecco duro che succhiandolo si imbibe di saliva e dopodiché c'è uno strumento che estrae la saliva e fa l'analisi al di là della curiosità commerciale lo state valutando per una implementazione sì sì il rigore sta provando ma noi stiamo pensando i bimbi non possiamo continuare a pensare di infilare lo stecco nel naso ai bambini tanto è vero che abbiamo anche il tampone baby però guardate che è invasivo come testa pensate a un neonato il rino faringeo è un neonato avete presente? lui si ricorda tutta la vita ok questa era la curiosità ma volevo tornare sull'ordinanza sì giusto per una questione di metodo quindi aspettate il governo tra oggi e domani per capire come si muove in modo tale allineare probabilmente da quello che si sa per quanto riguarda la proposta comunque del Veneto alla luce del confronto che c'è stato ieri con i sindaci ci risulta che ci siano diverse ipotesi sul tavolo dal divieto di uscita dai comuni nei prefestivi e festivi e sempre in quelle giornate alla chiusura dei bar passando per la serrata delle medie e grandi strutture di vendita a lei che spetterà un po' immagino questo compito di sintesi chiedo quale potrebbe essere quindi la proposta noi abbiamo discusso la verità di tutto c'è chi aveva posizioni più estreme chi meno estreme chi addirittura magari molto più soft la verità è che il tema dei ristori è un tema dirimente nel senso che si sta presto a fare gli eroi con il portafoglio degli altri benvenga se c'è una soluzione nazionale che garanzia ci dà non è quella della responsabilità perché ce l'assumiamo cioè non è che ci votiamo contro vi ricordo che ci vuole l'intesa quindi se le ragioni non dà l'intesa vuol dire che c'è una spaccatura quindi sicuramente noi daremo l'intesa al vantaggio del ristoro agganciato perché la misura voi ricordate il dibattito della zona gialla plus ne venne fuori lì il dibattito che poi il ristoro si ci hanno dato 19 milioni di euro ma non ne facciamo nulla con 19 milioni di euro con le restrizioni che si fanno 19 milioni scusate su un budget nazionale di 2,50 distribuito tra tutte le regioni noi sono toccati 19 milioni deve comunque essere un mix di soluzioni allora di misure guarda io penso che se si fa a livello nazionale con i ristori fatta bene può essere una soluzione diciamo incisiva e immagino che il ragionamento che potrebbe venirne fuori sia quello di pensare diciamo di mutuare le misure delle colorazioni dando per presupposto che l'Italia è tutta gialla quindi immagino che si dovrà cambiare colore se invece non ci sono non c'è non c'è una decisione diciamo affiancata dai ristori è ovvio che si va a una soluzione di minima semplicemente per gli assembramenti del sabato e la domenica cercando sempre l'aiuto dei cittadini di far capire che comunque il rischio c'è negli assembramenti io capisco che la legge no attenzione capisco che si può uscire di casa ma non è vero come ho letto da parte di qualcuno anche qualche vostro collega che dice che la legge lo permette la legge vieta l'assembramento che è di maggio legge decreto legge 33 del 16 maggio no perché leggere anche che qualcuno dice che non si possono non si può fare ragionamenti sugli assembramenti perché si possono fare forse qualche episodio anche a quei si venga perso anche autorevoli i vostri colleghi nazionali che fa lezione al mondo c'è una legge che lo vieta l'assembramento è un corso pieno di persone è un'assembramento per legge lo definisce proprio in legge Giacomo Muzzo e poi Fois e Bonet Presidente buongiorno buongiorno la collega mi ha anticipato un po' sui temi ma quindi le chiedevo allora in particolare sui ristori non bastano e quelli del il decreto scusi l'ordinanza giallo plus quindi quello che è stato stanziato fino adesso non basta no guardate considerate con 19 milioni di euro tu chiudi 2-3 settimane e fai quelle chiusure che si fanno pensate solo categorie 19 milioni di euro vuol dire cosa facciamo 5 milioni di euro a settimana una roba del genere avete presente il fatturato del Veneto cioè se tu vuoi fare una misura incisiva ipotizziamo che si faccia una misura di minima con un salto si va all'arancione l'arancione prevede già una serie di restrizioni che sono pesanti e quindi è fondamentale che ci siano i ristori io capisco che è difficile trovare un punto di equilibrio noi ci siamo non ci tiriamo indietro se c'è da fare facciamo autonomamente se c'è da fare per dare l'assenso al governo daremo l'assenso sulla base di una proposta ovviamente dobbiamo vedere la proposta però noi siamo convinti che delle misure ci vogliano in questa fase guardate il nostro pensiero va agli operatori ovviamente ai ricoverati ma gli operatori sono tirati cambiando discorso le volevo anche chiedere settimana scorsa aveva annunciato delle novità diagnostiche si riferiva a questa del salivare no mi riferivo al salivare ma guardate ho parlato oggi dottor Rigoli Cristina mi ha detto che voleva ancora qualche giorno poi veniva magari a farvi un punto della situazione un punto nave di quello che è diventata la diagnostica è giusto anche corretto per voi e quindi per i cittadini sapere da dove siamo partiti cosa c'è oggi sul mercato nazionale mondiale io lo dico ma anche posso dire un po' anche con rammarico personale se oggi avessimo un test rapido avete un test fai da te avete neanche un'idea di cosa si potrebbe fare pensate solo a sto tema di ristoranti non passa grazie Fois e poi Bone buongiorno Presidente io tornerei all'incontro che ha avuto con i sindaci perché al di là lei ha detto ci sono diverse posizioni misure più o meno restrittive però c'è anche una terza corrente di pensiero che è quella di far rispettare le misure che attualmente sono in vigore per esempio quella di divieto di assembramento lei adesso ha ricordato che è vietato per legge l'altro giorno ha giustamente ricordato che lei non ha né il controllo delle forze dell'ordine né della polizia locale però quello ce l'hanno i sindaci per esempio e si è parlato allora di questo problema e di che cosa abbiano intenzione di fare no guarda intanto io dico che la squadra dei sindaci è una squadra responsabile ne abbiamo parlato con tutti tutti sono stati collegati per tutto il tempo dico che faccio degli esempi cioè una città come Treviso è riuscita a schierare 25 vigili della polizia municipale insomma uomini della polizia municipale cioè le forze sono ridotte immagino che ci siano anche delle forze di polizia però capite che se bisogna andare a strascico a fare molte in mezzo alla popolazione c'è anche un rischio come si può dire di tensione oltretutto no perché poi immagino anche che molti siano lì cioè beccarsi una molte di 400 euro di 1000 euro cioè non è che ti passa comunque la giornata cioè è un danno un grave danno quindi bisogna cercare una soluzione allora i sindaci sono responsabili non si sono tirati indietro e hanno sempre dimostrato di avere a cuore la salute dei cittadini però è pur vero che se pensiamo di gestire con le multe guardate poi conoscete la mia posizione insomma io non ho mai pensato che questa vicenda debba essere gestita con le multe allora io ho fatto un'intervista ricordo due mesi fa dicendo guardate che dovremmo ritrovare un nuovo patto sociale con i cittadini non arriviamo ad aprire a forza di PCM ordinanze e si sta verificando c'è un posto invece in cui la polizia locale ci è andata e anche col sindaco che è la scuola elementare Giovanni XXIII di Treviso dove i genitori protestavano per la presenza di un insegnante che diciamo ha delle posizioni negazioniste sul covid è intervenuto il sindaco Conti assieme alla polizia locale l'insegnante è stata poi segnalata anche alla prefettura ora il dirigente scolastico deciderà che cosa fare non so nulla assunta proprio per tra l'altro ha iniziato a lavorare poche settimane fa ed è stata assunta proprio con i posti in più del covid lei non ne sa nulla volevo chiedere un suo commento no non so cos'è il fatto c'è un insegnante negazionista la maestra non metteva la mascherina e invitava i bambini dicono se è vero che è così sottolineo se è vero che è così sono fatti da condannare e da perseguire appunto si le dico è andato anche il sindaco con la polizia locale l'altro giorno dovete scusare ma noi sti giorni onestamente siamo molto concentrati su un altro tema va bene Bonet buongiorno buongiorno senti volevo chiedere una cosa sui ristori nel senso che giustamente i sindaci anche lei continuate a battere su questo tasto però mi pare che si stia alimentando nelle persone l'aspettativa che ci siano soldi per tutti e almeno questo anche vedo dei commenti sui social cioè allora volevo capire questo il paese si è già indebitato mi pare per una cifra intorno ai 200 miliardi abbiamo un debito PIL altissimo praticamente ci siamo quasi già mangiati i soldi del recovery si continua tutti dicono ok facciamo i ristori alla tedesca soldi per tutti 90% però in queste riunioni che avete fatto anche come conferenza delle regioni col governo si è capito quali potrebbero essere le forme di approvvigionamento grazie per questa nuova partita Marco no perché non c'è stata fatta nessuna riunione considerate tanto per dare a voi un minimo di timing considerate che domani mattina in Parlamento si discutono le mozioni sulle restrizioni sia di maggioranza che di opposizione e sia che in maggioranza che in opposizione ci sono posizioni diciamo variegate scusate variegate in maggioranza di certo sì l'opposizione ha una una mozione sul Natale sul Natale perché non voglio dire robe imprecise per cui è inevitabile che domani mattina ci sarà il primo confronto per eventuali ragionamenti dopodiché il governo avrà immagino notte e tempo nel giro di poche ore il parere del CTS il CTS ieri sera si è riunito per esprimere un parere sulla situazione epidemiologica nazionale non Veneta nazionale e dopo quindi ci mettiamo il parere del CTS che sarà come una pietra migliare perché voi sapete che se dicono che si va a destra e tutti girano a sinistra poi si vedrà fino adesso il parere del CTS è sempre stato seguito e le emozioni e quindi la politica domani immagino che nella giornata di domani vi do io uno scenario possibile ci sarà sicuramente una riunione dei presidenti probabilmente o e o e dei presidenti con il governo io immagino che andrà a finire così la giornata e quindi penso che la volta di domani per vedere chiusa la partita giovedì per il fine settimana siano questi i tempi questa è tutta una situazione in evoluzione che è iniziata ieri Marco stop non c'è in questo momento un'idea di dove il governo perché credo saranno le regioni i sindaci a mettere i soldi per ovvie ragioni quindi non si sa dove troveranno questi soldi per i ristori non te lo so dire guarda io il bilancio dello Stato non lo conosco non lo so però posso anticiparti una roba che diciamo la voce del corridoio è che comunque affiancherebbero ristori alle misure ma questa è voce diciamo di corridoio come dici prego prego se posso per capire bene in fondo questa cosa della diciamo del link tra provvedimenti restrittivi e ristori par di capire che le regioni considerino la presenza di ristori adeguati come una condizio rispetto alla intensità delle misure mi spiego sì sì è giusto no sì ti confermo questo ma non è una come si può dire una condizio delle regioni è una considerazione che fanno un po' tutti e devo dire che anche esponenti del governo dicono se chiudiamo bisogna che comunque ci sia una misura di ristoro a fianco no no ma questo è sacro santo perché non è che hai ragione lì dicono tu fai misura solo no 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 non volevo banalizzare in questi termini viene da dire che certamente lei ha ragione quando dice fare gli eroi col portafoglio col lavoro col reddito con il sacrificio degli altri è facile d'altra parte se c'è veramente una situazione emergenziale se c'è una situazione molto pesante in Veneto adesso abbiamo una situazione molto pesante verrebbe da dire ristori o non ristori le misure necessarie questo lo vedremo nelle prossime ore perché io ve l'ho detto prima però Filippo comunque delle misure usciranno cioè in una maniera o nell'altra ovvio è che se si riuscisse a mettere a fianco le misure i ristori cioè non sono 24 ore di giornate non con gli affollamenti nelle città che ci rovinano il piano di sanità pubblica la dottoressa Russo mi dice guarda che problema sono le piazze piene il sabato la domenica i grandi affollamenti se non avete altro io posso cedo sì la parola alla dottoressa Russo e la ringrazio grazie buongiorno grazie e buon lavoro prego dottoressa grazie buongiorno buongiorno a tutti allora eccomi di nuovo qua volevo dire una cosa perché le domande iniziali su anche insomma il tema dei colori lo volevo perché l'ho spiegato in questi giorni ma volevo dire una cosa allora la suddivisione in colori ancora prima di essere legata ai dpcm alle ordinanze è nata con l'obiettivo di aiutare le regioni a identificare il proprio scenario di rischio quindi quando perché vi dico questo perché in quel gruppo di lavoro noi come Veneto siamo una delle regioni che ha coordinato il contributo delle regioni perché quel documento è stato scritto a più mani è stato scritto dal ministero dai tecnici del ministero dai tecnici dell'istituto superiore di sanità e dai tecnici delle regioni fra cui noi allora e gli scenari individuavano dei delle condizioni per cui si identificava uno scenario e poi delle misure delle misure che erano rivolte alla comunità che erano rivolte alla scuola e che identificavano diciamo degli conseguentemente delle azioni e quindi delle decisioni che dovevano essere delle regioni del livello nazionale oppure di entrambi ok così è il documento è stato pensato il documento che costituisce il capitolo 5 di questo diciamo di questo documento che poi è arrivato a fine ottobre alle regioni come circolare del ministero e che è passato anche in conferenza Stato-Regioni quindi serviva a far sì che sia il governo centrale sia le regioni attraverso la valutazione di alcuni parametri capissero dove si trovavano e anche perché era impossibile e non era corretto applicare a tutte le regioni indipendentemente dalla loro situazione gli stessi provvedimenti quindi il cosiddetto lockdown generalizzato quindi avere la capacità di identificare dove ci si trovava dava un orientamento alle regioni perché capissero quali potevano essere le misure più corrette poi poiché questo diciamo suddivisione dei colori era importante perché entravano anche quello che si è detto poco fa che ha detto il presidente delle misure anche di tipo e dei risvolti anche di tipo economico è stato vincolato giustamente a qualcosa che non fosse soggettivo cioè che uno decideva a sensazione dove poteva stare ma che fosse invece oggettivo e quindi legato ai famosi indicatori che ho cercato insomma di spiegare che voi avete compresso per cui se la regione Veneto fino a oggi è in zona gialla è perché in maniera oggettiva e non inventata all'interno di un pentolone ci sono dei dati che noi abbiamo inviato secondo quanto è previsto dalla norma e che l'istituto e il ministero ha valutato ha sottoposto al CTS e alla cabina di regia e ha identificato che il nostro scenario di rischio era quello ed è stato quello adesso è stato fatto facevo vedere all'assessore uno specchietto che dice negli ultimi tre di PCM come sono stati variati i colori delle regioni i colori delle regioni significa gli scenari di rischio delle regioni perciò lo scenario di rischio attuale della regione Veneto così come è stato la settimana scorsa e nelle settimane precedenti è uno scenario di rischio moderato con pericolo di passaggio in una zona ad alto rischio questa è la nostra questa è la nostra identificazione cosa vuol dire vuol dire che l'attenzione deve essere destata massima a identificare quei parametri che ci possono portare in uno scenario di rischio peggiore rispetto a quello che abbiamo allora adesso stiamo osservando negli ultimi giorni diciamo negli ultimi 7-6-7 giorni con dei picchi su e giù un aumento dell'incidenza ma ho spiegato più volte che non è l'unico indicatore l'aumento dei soggetti positivi perché ce ne sono altri che sono l'ospedale che sono i sintomatici insomma l'abbiamo detto quindi vorrei dire che i nostri dati sono dati che consulta anche l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero che è al di sopra delle parti nell'ambito delle regioni che le valuta puntualmente e che sono naturalmente disponibili per le autorità perché possono essere controllati e rispondere ai 21 indicatori famosi del nostro sistema quindi la nostra colorazione al momento è gialla all'interno di questo scenario giallo ci sono una serie declinate una serie di misure noi le abbiamo valutate sia con gli assessori che con il Presidente tutto quello che era scritto noi l'abbiamo portato avanti poi i governatori decidono di fare altre restrizioni e diciamo loro discrezione non posso entrare in questo però quello che è tecnico è stato tutto rispettato e tutto viene registrato e inviato anche tutti i nostri invii dei dati il Presidente ha detto la settimana scorsa che avremmo cercato di valutare un po' se c'erano degli indicatori importanti diciamo che ci portavano anche a supportare poi le decisioni che vengono prese e allora noi stiamo cercando di fare come tecnici questa valutazione tra l'altro devo anche dire e ne approfitto che alla parola che accanto a tutti i colleghi che lavorano giorno per giorno a contatto con il virus ci sono i colleghi della prevenzione che sono quelli dei dipartimenti di prevenzione che raccolgono tutti questi dati e li mandano e ce li forniscono perché noi li mandiamo al Ministero e vi assicuro che fare la valutazione dello stato clinico di 3.000 soggetti al giorno 2.500 soggetti al giorno cercare di contattarli tutti e capire se sono sintomatici o asintomatici è un grosso lavoro far sì che si rispettino diciamo tutte le indicazioni per evitare il contagio è quello che ci porta a non peggiorare la situazione degli ospedali quindi c'è tutto un lavoro di squadra rappresentato dal territorio poi ci sono le usche i medici di base i dipartimenti di prevenzione che cercano di bloccare il diffondersi dell'infezione ed evitare che le persone vadano a finire in ospedale vadano a finire in terapia intensiva e poi alcune di queste muoiono quindi è un lavoro composito e complesso che non si inventa ma che si costruisce nel tempo non si inventa neanche nel momento in cui arriva una pandemia è un lavoro che parte da molto molto prima allora e questo è in premessa allora per analizzare la nostra situazione di che cose disponiamo abbiamo il SER il servizio epidemiologico regionale che lavora in azienda zero e che diciamo elabora i dati per la regione che ci ha presentato un report sulla mortalità ed è molto importante questo report sulla mortalità perché ci fa vedere qual è stata la mortalità in eccesso che abbiamo riscontrato nella fase 1 rispetto a quella che stiamo riscontrando adesso e se effettivamente diciamo gli effetti perché poi diciamo la mortalità e l'effetto estremo insomma di questa di questa malattia è uguale rispetto alla prima fase oppure se è diversa allora noi abbiamo visto appunto che nella fase 1 abbiamo avuto cioè nel periodo in cui è comparsa ed è cominciato ad essere diagnosticata nella nostra regione cioè dal 21 febbraio fino a fine aprile è stato il periodo in cui si è verificata effettivamente si sono verificati il maggior numero dei casi e poi un eccesso di mortalità confrontate con gli stessi periodi del triennio precedente perché dobbiamo capire avere naturalmente un margine di confronto abbiamo visto che gli ultimi 15 giorni di marzo e i primi 15 giorni di aprile sono stati quelli peggiori per quanto riguarda questo tipo di esito con un eccesso di mortalità compreso fra più il 38-39% rispetto ai dati dello stesso periodo valutati nei tre anni precedenti poi abbiamo continuato a monitorare come anche diceva il presidente perché il monitoraggio non è che si sia interrotto quando è finita diciamo la fase 1 ma è continuata e si è visto che via via c'è stato un decremento fino ad arrivare a un più 1% 4% insomma 2% eccetera poi arriviamo ad ottobre e ad ottobre verso la fine di ottobre abbiamo un più 10% nelle messe di novembre nei primi 15 giorni di novembre abbiamo un più 32% e la seconda metà di novembre 44% vanno presi con le pinge questi dati perché naturalmente altre schede di morte potrebbero arrivare che si riferiscono al mese scorso e quindi potrebbe leggermente insomma variare anche questa percentuale ma questo che cosa ci dice che effettivamente da un punto di vista della mortalità si ripresenta lo stesso quadro lo stesso eccesso di mortalità che abbiamo riscontrato nella prima fase abbiamo avuto una capacità diagnostica superiore perché attraverso diciamo una messa a sistema e un potenziamento di quelle che sono state le microbiologie siamo in grado di fare molti più tamponi di quelli che facevamo prima abbiamo introdotto i test rapidi quindi abbiamo una capacità di testing che è molto molto più alta e abbiamo riscontrato numericamente molti più positivi la mortalità purtroppo comunque è sovrapponibile a quella che abbiamo riscontrato nella fase 1 è chiaro che i dati si devono stabilizzare adesso vedremo anche nei primi 15 giorni di dicembre e via via a chi arrivano questi dati ci daranno un'idea però abbiamo infatti c'era anche il lockdown quindi l'effetto del lockdown rispetto ad adesso ha certamente frenato sia il diffondersi del virus e i conseguenti effetti mentre adesso abbiamo una situazione in cui abbiamo quasi mantenuto diciamo una condizione di normalità cioè abbiamo il virus circola molto più frequentemente ed è più presente nella popolazione perché tutte le attività riproduttive e tutte le attività produttive sono in funzione è ripresa la scuola abbiamo una diciamo vita quasi normale quindi non ci sono delle restrizioni che invece abbiamo riscontrato nella prima fase quindi anche l'effetto della mortalità cioè l'essito della mortalità stava visto in come diciamo anche legato all'incidenza cioè al numero di nuovi positivi che avevamo nella prima fase rispetto a quelle che abbiamo in questa fase 3 ma comunque tornando alla mortalità vediamo questo eccesso di mortalità anche in questa fase per quanto riguarda le fasce d'età ripercorre esattamente quello che abbiamo visto cioè le condizioni di rischio legate alla mortalità sono l'appartenenza al sesso maschile e poi l'età superiore ai 70 anni concentrandosi soprattutto sopra i 75 anni e sopra gli 80 anni cioè le fasi estreme della vita sono quelle più interessate e il sesso maschile è più colpito ed è il sono i soggetti che muoiono con una frequenza maggiore rispetto al sesso femminile ma questo un po' è per tutte le malattie poi una volevo fare un'altra considerazione che abbiamo fatto anche insomma stamattina allora valutando quello che sta succedendo adesso noi vediamo come si distribuiscono i nuovi casi quelli di cui parlavamo prima l'incidenza l'incidenza riguarda una fascia di età che va dai 25 ai 64 anni cioè il maggior numero dei casi riguarda questa queste fasce di popolazione questi sono quelli che si infettano maggiormente mentre se andiamo a vedere l'età media dei ricoveri quella l'età media è di 75 anni e muoiono a partire da queste classi di età quindi il mondo diciamo produttivo la noi che insomma lavoriamo che andiamo in giro eccetera siamo quelli che ci infettiamo di più ma quelli che vanno a finire principalmente quindi in ospedale sono i soggetti 75 anni e oltre e questa è la fascia d'età che poi muore quindi quando noi diciamo che la percezione della popolazione è che effettivamente è una cosa che non ci riguarda siamo noi dell'età media che contraiamo l'infezione e probabilmente insomma la portiamo agli anziani che poi vanno incontro ai ricoveri e vanno incontro a morte pur infettandosi meno perché sono le persone più debilitate sono le persone che più difficilmente riescono con le proprie difese immunitarie diciamo a superare la malattia quindi diciamo ci deve essere veramente una grossa assunzione di responsabilità in quello che è il nostro ruolo e questa non è una sensazione questi sono dati cioè i dati ci dicono che l'andamento è questo si infettano maggiormente i soggetti tra virgolette giovani che vanno nella fascia di età che sono nella fascia di età produttiva vanno a finire in ospedale principalmente i soggetti che hanno dai 70 anni 75 anni in su e questi sono i soggetti che poi vanno incontro a morte perché le complicanze sono maggiori e quindi è più difficile poi è stata fatta una cosa molto importante da parte del del servizio epidemiologico regionale che analizzare i tassi di mortalità per tutte le cause e lì per tutte le cause le cause di morte sì allora si è visto che effettivamente così come insomma riportato anche dalla letteratura e quindi qui lo vediamo proprio con una analisi specifica che riguarda i morti della nostra regione c'è stato un eccesso di mortalità per tutte le patologie croniche e principalmente per un eccesso di morte per le patologie respiratorie per il diabete per le patologie circolatorie sia quelle cardiovascolari che quelle cerebrovascolari quindi diciamo che tutti quelli che avevano già una patologia di base che fosse il diabete la cardiopatia patologie di tipo circolatorio a livello cerebrale sono morti quando hanno diciamo quando hanno avuto anche e hanno avuto anche una diagnosi di covid ma si è visto che anche se non c'è stata una diagnosi precisa di covid cioè il covid associato comunque c'è stata una mortalità superiore per quanto riguarda i soggetti che presentavano queste patologie croniche quindi che sia stato diagnosticato in quei soggetti o che non sia stato diagnosticato il covid in questi soggetti comunque la mortalità per queste patologie croniche è comunque aumentata ciò significa che molto probabilmente alcuni di questi soggetti hanno magari contratto il covid e non li è stato diagnosticato e si è aggiunto a queste patologie per cui queste patologie sono state insomma cause di morte quindi ci sono dei numeri ci sono dei numeri poi vi mando vi mandiamo un report molto insomma abbastanza tecnico però possiamo io ho parlato poco fa con i colleghi del del SER che si occupano dell'analisi di tutte le schede di morte se ci servono delle cose più diciamo specifiche che possono essere utili per la comunicazione in termini di percentuali le possiamo chiedere e loro ce li elaborano perché vi vende al mio fianco ma il dottore Salusso vi dà anche i titoli insomma quindi siamo tranquilli che è tutto molto chiaro sì sì vabbè insomma io cerco e spero insomma di avere no mi sembra che questo sia più che esaustivo poi se i colleghi avranno richieste nello specifico però ancora ancora una volta insomma questo ci evidenzia come le malattie respiratorie e il covid è una patologia respiratoria associata ad una condizione di rischio di una patologia cronica diventa veramente un fattore molto importante che porta poi all'aumento della mortalità e poiché mi occupo di prevenzione e dico che tutte quelle cose che devono essere fatte per ridurre le malattie croniche quindi gli stili di vita corretti devono essere mantenuti perché nel momento in cui poi arriva una patologia infettiva come questa perché è una malattia infettiva e contagiosa e si associa ad una condizione di cronicità naturalmente questo porta all'aggravamento alla forma più grave di espressione della malattia che conduce a morte quindi questo è un messaggio molto importante quindi la patologia infettiva sì quando si unisce ad una patologia cronica praticamente questo aumenta e determina l'eccesso di mortalità questo era quello che volevo dirvi grazie dottoressa quindi mi pare di capire sintetizzando dai 25 ai 64 ci si contagia poi però purtroppo dai 75 dai 75 questa fascia l'attacca a chi poi purtroppo domanda Emiliano Prigioni Pederiva Tosato Giacomuzzo e chi sarà troppo lunga mi ha sempre incuriosito questo questo mondo questo spaccato si parlava che inizialmente non si possibilizzassero fossero solo veicoli non erano immuni qualche anni abbiamo visto che non è effettivamente così avete sicuramente fatto degli studi sì diciamo che abbiamo abbiamo dei dati anche per quanto riguarda la positività nei bambini magari insomma vi prepariamo delle slide ad hoc effettivamente abbiamo visto insomma che ci sono stati anche dei casi nelle scuole le stiamo monitorando rispetto a tutta la popolazione degli studenti sono naturalmente delle percentuali molto basse i bambini i bambini proprio insomma fino ai 14 anni fino ai 12 anni non presentano pur essendo positivi sembra che non presentino insomma dei quadri importanti di manifestazioni cliniche che poi insomma li mettono in difficoltà stiamo facendo però degli approfondimenti con la pediatria di Padova e con alcuni pediatri per studiare proprio come la malattia insomma si sviluppa nei bambini però è vero che loro possono fungere appunto da vettore del virus da veicolo del virus nei confronti di altri soggetti anche se sembra per lo meno da quello che rappresenta un po' la letteratura che quelli che più sono piccoli bambini meno hanno questa capacità di diffusione del contagio però questo ancora si deve verificare è chiaro che è molto importante che quando un bambino viene riscontrato positivo venga mantenuto lontano dai soggetti che possono essere a rischio o per patologia o per età perché altrimenti insomma li mettiamo assolutamente a rischio perciò la nostra attenzione nei confronti insomma della scuola si mantiene alta è chiaro che è un elevato numero di scuole da controllare ha portato alle difformità che abbiamo visto anche in questi giorni e quindi stiamo studiando delle modalità per rendere sostenibile il controllo più marcato più appropriato per quanto riguarda le scuole perché sicuramente non dobbiamo dimenticare che anche la fascia pediatrica o dei giovani adulti può essere insomma importante per la diffusione del virus e questo sicuramente sì non tanto per il peso nelle strutture sanitarie ma per la diffusione del virus sicuramente sì scusa Emiliano però non ti sente nessuno così noi io l'assessore secondo me dobbiamo trasferirci in consiglio lasciamo intanto la dottoressa da sola i colleghi faranno un continuum fra qui e il consiglio va bene va bene tanto la dottoressa russa non è bisogno aiuto non è vero grazie eravamo rimasti poi Emiliano le chiedo velocemente da genitore non solo insomma vedere i bimbi credo intorno ai 6 anni possono non mettere la mascherina o sotto i 4 non ricordo adesso no vabbè ma quello non è tanto legato cosa ne pensa da medico cioè se facciamo bene o no allora io penso che è il fatto di non mettere la mascherina ai bambini piccoli sia perché risulta difficoltoso per loro tenerla e quindi ma non perché non sia indicata è legata al fatto che il bambino piccolo con la mascherina potrebbe avere difficoltà uno a tenerla quindi come comportamento insomma è una cosa e poi anche perché insomma non sappiamo se magari gli dà fastidio a respirare eccetera ma è solo legato a questo ma effettivamente il bambino positivo potrebbe insomma diffondere il virus quindi lì non è più non è tanto la mascherina quanto il fatto che se uno ha un sospetto di evitare assolutamente in maniera assoluta quindi il discorso della mascherina è legata proprio alla sostenibilità della misura ecco sì Prigioni Poitosato Pederiva Giacomuzzo Buongiorno a tutti buongiorno dottoressa l'eccesso di mortalità della seconda fase oltre al fatto che nella prima fase c'era il lockdown si può spiegare anche in qualche modo ci sono dei parametri di valutazione ma diciamo che si può spiegare col fatto che uno abbiamo una diffusione maggiore del virus con le cose che abbiamo detto prima perché tutta la popolazione insomma conduce alla propria attività lavorativa c'è una maggiore circolazione del virus e questo sicuramente è vero anche quello che diceva il presidente che pur avendo aumentato quelle che erano insomma le misure per il controllo e l'intercettazione all'interno delle strutture residenziali vediamo che la maggiore mortalità insomma si concentra ma perché la popolazione è più anziana perché magari ha già delle patologie di base però insomma noi dobbiamo continuare a aumentare il testing per intercettare soprattutto nei confronti degli operatori che possono essere le persone che inconsapevolmente possono portare il virus all'interno delle strutture per quello abbiamo raddoppiato diciamo la frequenza proprio per evitare questo e poi anche questo discorso dei visitatori che nelle strutture che non hanno casi possono insomma frequentare con le regole che abbiamo dato però con il con il test in modo tale da evitare il più possibile di portare in questa struttura il virus che poi si diffonde più facilmente sembra quasi che il virus prima colpisse in maniera più specifica in maniera più grave oggi invece sembra più trasversale quindi essere più diffuso magari in maniera ma in termini di positività in termini di nuovi casi noi ne intercettiamo tantissime in questa fascia di età che abbiamo detto insomma è anche giovane ma l'abbiamo visto anche in estate se vi ricordate nel periodo nella fase 2 l'età media addirittura era intorno ai 25-30 anni quindi il virus circolava veramente nella popolazione giovane perché era quella che era più in movimento perché era stato in vacanza o perché frequentava diciamo ambienti dove insomma c'erano non dico assemblamenti ma movimenti di vita insomma in comune adesso è più o meno la stessa è più o meno la stessa cosa quindi il virus circola trasversalmente in tutte le fasce di età della popolazione principalmente in queste fasce di età dai 25 ai 64 anni e poi però determina un aggravamento in questa fascia della popolazione più estrema che secondo me è quella più attenta a quelle che sono tutte le misure e tutti i comportamenti però è quella che se viene colpita ne paga le conseguenze maggiori eravamo a Tosatto sì dottoressa mi rendo conto che è una contabilità un po' funerea questa però stiamo alludendo all'aumento di decessi in assoluto di questi mesi rispetto al triennio precedente cioè il raffronto è questo? sa perché glielo chiedo perché da mesi circola questo refrain per cui il covid avrebbe di fatto assommato tanti decessi ordinari di carattere diverso quindi può essere un elemento di chiarezza quando lei ci dice a cavallo tra a cavallo tra la la seconda metà di marzo e la prima metà di aprile abbiamo un più 38-39% di decessi mi correga se sbaglio vuol dire che abbiamo un più 38-39% di decessi assoluti rispetto al triennio precedente è corretto? nello stesso periodo sì però ho anche detto che abbiamo analizzato le cause che vengono scritte nelle schede di morte e allora in una parte di queste schede di morte viene specificata che c'è una diagnosi di covid e quindi la persona è morta per covid ma abbiamo riscontrato che anche dove non c'è scritto covid le persone invece come prima causa avevano le malattie croniche di cui vi ho detto prima certo lei a questo proposito ipotizza che si tratti di un covid non diagnosticato viceversa sarebbe incomprensibile potrebbe potrebbe essere collegato potrebbe essere collegato magari ad un covid non evidente non diagnosticato o comunque che non si è manifestato e pertanto non lo possiamo sapere ma questo sarà oggetto di valutazione ci sono sia a livello regionale che a livello nazionale dei gruppi di lavoro e degli esperti proprio specifici che specificatamente vanno ad analizzare queste cause di morte noi possiamo dire quello che abbiamo rilevato cioè che a fronte di un eccesso di mortalità che abbiamo riscontrato in questi periodi che coincide con i due periodi di maggiore circolazione del virus non soltanto abbiamo riscontrato che una parte di questi soggetti aveva come prima causa la diagnosi di il covid era positivo per covid ma anche dove questo non c'era abbiamo avuto un eccesso di mortalità per malattie croniche cosa significa SER? servizio epidemiologico regionale la ringrazio Federiva grazie dottoressa buongiorno mi riallaccio a quanto diceva il collega è uno studio sulla mortalità quindi non sulla letalità covid sappiamo che sono concetti differenti certamente anche l'aumento che c'è stato nella seconda ondata rispetto alla prima potrebbe tener conto della situazione per cui in assenza di lockdown non solo il virus circola di più ma si muore anche per incidenti stradali certamente perché nella prima infatti in questo lavoro c'è una riduzione della mortalità per traumatismi perché questa chiaramente è legata invece al fatto che le persone erano costrette a rimanere presso insomma il proprio domicilio e pertanto era molto ridotta quella che era la mortalità per incidenti certamente e quindi concludo rispetto anche alla vulgata negazionista con cui purtroppo ci dobbiamo confrontare tutti i giorni ci può suggerire da tecnico che tipo di locuzione possiamo usare quando parliamo di morte per covid con covid da covid alla luce del fatto che le stesse schede di morte come ci ha appena detto sono differenziate alcune lo indicano altre no lo presuppongono lo sospettano ma magari non lo diagnosticano come possiamo tradurre tutto questo in termini comunicativi che siano rispettosi della verità dei fatti allora la verità dei fatti sono i dati e noi riscontriamo che in corrispondenza della maggiore circolazione del virus sia nella fase 1 sia nell'attuale riscontriamo un eccesso di mortalità sia associato come ho detto prima alla dove viene segnalata fra le cause di morte la malattia quindi covid 19 associata molto spesso ad altre patologie e questo sta ad indicare come il soggetto con comorbidità è uno la comorbidità è uno dei fattori che aumenta la mortalità è anche non associata strettamente quindi tra le cause di morte non scritto covid ma solo le comorbidità solo cioè le comorbidità che ho menzionato prima cioè il diabete cioè le patologie cardiocircolatorie e cerebrovascolari queste sono quelle che portano ad una maggiore mortalità questa sovramortalità coincide con le curve che noi conosciamo cioè quella che si è che ha presentato l'andamento della fase 1 e poi l'andamento adesso ancora in studio naturalmente per le cause abbiamo soltanto quella della fase 1 con la circolazione del covid anche in questo periodo questo per dire che le patologie croniche purtroppo sono anche la base del gravamento della mortalità anche quando si congiungono con delle cause di malattie infettive con delle malattie infettive non so se avete visto come era Boris in Inghilterra che dopo aver superato la malattia ha cominciato a correre ha cominciato e è venuto fuori sui giornali cosa vuol dire? vuol dire che quelle che sono le condizioni di rischio che portano alle malattie croniche le nostre abitudini di vita purtroppo poi possono aggravare anche la patologia invece che ha un'atura infettiva ecco quelle due cose sono collegate le malattie infettive acute e contagiose con le patologie croniche che sono legate invece agli stili di vita quindi queste cose sono allineate fra di loro spero che che passi questo messaggio quindi cos'è importante evitare la sedentarietà evitare il fumo la cattiva alimentazione e l'alcol che sono i quattro fattori che determinano l'aumento delle malattie croniche Giacomo Buongiorno dottoressa volevo chiederle una cosa che il dato di novembre era 32% allora barra 44% no allora diciamo che i primi vengono divisi in 15 giorni quindi i primi i primi 15 giorni dall'1 al 15 novembre più 32% e invece dal 16 a 30 novembre più 44% però ho detto che questi sono dati da prendere con le pinze perché sapete che i dati di mortalità naturalmente nell'analisi hanno i loro tempi e quindi possono insomma essere modificabili ma quello che è importante il parallelismo che vi volevo far vedere è che effettivamente insomma coincide con quello che è l'aumento della circolazione del virus purtroppo e coincide sostanzialmente con la media della prima ondata sì invece sulle case di riposo prima il presidente aveva accennato al fatto che c'è una maggiore mortalità nella seconda beh diciamo che per quanto riguarda i ricoveri noi abbiamo insomma fatto un parallelismo per esempio con i ricoveri abbiamo visto che mentre nella nella prima fase c'era una correlazione un andamento molto più rapido cioè man mano che aumentava l'infezione aumentavano anche i ricoveri adesso abbiamo visto che nei ricoveri c'è un andamento un po' più lento e anche la mortalità avviene meno in ospedale quindi le persone magari sono meno gravi e quindi arrivano meno in ospedale però purtroppo l'ho detto prima anche per questione di copatologie per questione di età e per questione di comunità la maggiore mortalità riguarda quella fascia di età ci sono paragoni con altre regioni al momento no però quello che vi posso dire che questo elemento e questi diciamo come si può dire caratteristiche legate all'età legate al sesso e legate alla comorbilità sono comuni non solo nelle altre regioni ma praticamente in tutta Europa e questi sono elementi insomma che caratterizzano la mortalità dappertutto noi stiamo facendo un lavoro che adesso insomma speriamo di completare appena avremo avremo superato questa fase emergenziale proprio un focus sull'RSA valutando un po' tutta la situazione epidemiologica e tutte le misure che sono state intraprese nei confronti di questa popolazione target questo anche per capire come insomma le nostre misure i nostri provvedimenti hanno inciso su poi sull'andamento sia delle positività che naturalmente dei decessi perché è molto importante insomma fare anche questo tipo di valutazione Bonet e poi direi non abbiamo ancora avuto il tempo ma insomma lo faremo io chiuderei qui grazie alla dottoressa Russo grazie ai colleghi grazie grazie